Ci troviamo nella sede operativa di Bulli per presentarvi il nostro nuovo macchinario per il cambio automatico, frutto e studio dei nostri tecnici che ormai da dieci anni eseguono corsi e tutti i giorni eseguono manutenzioni sui cambi automatici. Abbiamo voluto creare un macchinario semplice e pratico per il meccanico. Il macchinario è di tipo semiautomatico, ha chiaramente un sistema sinottico, questo schema è uno schema sinottico che ci permetterà di individuare subito le posizioni dei rubinetti senza dover ricorrere al manuale. Da subito notiamo che per inserire l'additivo di lavaggio basterà posizionare la leva in A1, scusate l'additivo in A2, additivo, e l'inserimento dell'additivo B1. Questo tasto che ha la funzione di dipstick dovrà sempre stare nella posizione off perché verrà utilizzato solo con il sistema che presenteremo poi di dipstick, quindi diciamo che la macchina ha solo due tasti per fare queste funzioni. Posizionate le leve in questa maniera potremmo inserire l'additivo in questo barattolo che ci permetterà di poter inserire sia l'additivo di lavaggio, sia l'additivo alla fine, oppure di fare un piccolo rabocco di lubrificante se serve, senza dover caricare nella macchina. L'innesto sarà rapido e in questa posizione accendendo la macchina l'additivo verrà inserito nel cambio tramite il tubo trasparente. Tutti i passaggi della macchina, trasferimenti di olio additivi avvengono sempre dal tubo trasparente. Dopo questa situazione dell'additivo dovremmo fare il lavaggio. Per posizionare la macchina in funzione di lavaggio basterà inserire A1 B2 lavaggio. In questo caso l'olio entrerà nel cambio e ritornerà nella macchinetta, verrà filtrato e ritornerà facendo un giro in bypass. Quindi vedremo il passaggio dell'olio nelle ampolle e vedremo impegnati i manometri in entrata e in uscita. In questa situazione è anche possibile controllare se abbiamo collegato bene i tubi. La macchina innanzitutto ha un'elettronica che ci permette in caso di inversione dei tubi, come vediamo che arriva una sovrapressione, quindi l'olio arriva a 4,5-5 e la macchina blocca in automatico e ci segnala che c'è qualcosa che non quadra. Quindi posizionando i tubi nel cambio, accendendo il motore della macchina dovremmo vedere salire prima l'ampolla dell'olio usato, il manometro dell'olio usato e poi quello del nuovo. In più abbiamo un altro sistema di controllo. Questo tubo trasparente ci permetterà mettendo in moto la macchina che se vediamo entrare nel tubo olio sporco sicuramente abbiamo sbagliato i tubi. Quindi basterà risbloccare i tubi e invertirli. Quindi questo sistema ci permette anche il controllo del passaggio del flusso. Quindi dovrà sempre essere impegnato prima l'olio vecchio e il manometro dell'olio vecchio che è sotto all'ampolla per poi arrivare nell'olio nuovo. Questi due strumenti permettono uno il controllo della pressione dell'olio che immettiamo nel cambio e questo l'olio in uscita. La macchina dispone anche di un sistema per cui ha un'asta dentro la tannica che pescherà fino all'ultimo goccio. Addirittura le tanniche sono leggermente inclinate per permettere proprio l'aspirazione di tutto il prodotto nuovo in maniera e non dobbiamo stare a pulire le tanniche ogni volta che dobbiamo cambiare di potenza. Questo sarà il tappo di carico. Quindi qui avremo la tannica del nuovo e qui avremo l'olio vecchio. Chiaramente qua è graduata, ogni tacca sono 5 litri, ci permetterà di eseguire il lavoro. La macchina dispone anche di una piccola innovazione, cioè abbiamo una griglia dove possiamo versare o olio o mettere a scolare un raccordo dopo che abbiamo usato nel cambio. In più dispone di un foro dove possiamo inserirci le stecche o scolare altre cose e in più un piccolo punto di appoggio sopra. Questa macchina dispone anche del sistema dipstick come abbiamo visto nel quadro sinottico e questo ci permette, grazie a questo tasto posizionato dietro la macchina, di inserire un tubo nell'apposito attacco di testina e posizionando il rubinetto in D3, quindi recupero olio, la macchina, inserendolo dal tubo di controllo dell'olio dove c'è la stecca, ci permetterà accendendo la macchina di aspirare l'olio e mandarlo nella tannica del vecchio. Commutando il rubinetto all'insopra, in D1, la macchina pescherà olio nuovo da questa tannica e ce lo andrà a inserire nel cambio. Questa operazione è molto utile specialmente nell'Egip dove non abbiamo il tappo di scarico oppure se capita che mettiamo troppo olio in un Mercedes o dobbiamo rabboccarne un po', quindi è una piccola soluzione per problemi che possono capitare. Abbiamo posizionato la presa di corrente in alto perché molto spesso ci troviamo vicino magari a una colonna e non c'è bisogno di prendere la prolunga, quindi è un'altra piccola comodità. La macchina ci permetterà anche, chiaramente quando dobbiamo fare il cambio dell'olio, una semplicità assoluta, quindi posizionando in A3, B3 e come vedete è impossibile sbagliarsi, inserimento olio nuovo e recupero vecchio, potremmo col tasto di accensione della macchina inserire olio nuovo nel cambio, mettendo in modo il veicolo vedremo defluire l'olio vecchio che andrà chiaramente nella tannica. Abbiamo voluto la semplicità assoluta e in più abbiamo posizionato un controllo temperatura per proteggere anche il macchinario, l'adubazione e tutto quanto. Nel caso noi avessimo oli che raggiungono più di 170 gradi, il macchinario ovviamente blocca e ci avvisa e quindi dobbiamo aspettare un po' per il raffreddamento. Questa macchina è stata tutta prodotta insieme ai nostri tetnici in Italia, ci teniamo tantissimo, dove abbiamo carpenteria italiana, rarniciatura italiana, pompa italiana, l'elettronica italiana e anche la raccorderia è tutta italiana. Sicuramente è una macchina semplice che è quello che serve in officina senza tante complicazioni con l'elettronica o cose varie. La nostra azienda sta già sviluppando tutti i nuovi raccordi che ci serviranno nei veicoli. abbiamo notato che molti raccordi sono inutili, quindi andiamo adesso a uno studio mirato. Questo è un tappo di controllo del cambio Isim, già è pronto il raccordo per invitarlo sotto e poter fare il livello senza dover stare con la cannuccia o altri sistemi poco puliti. Abbiamo già pronto anche gli attacchi per il cambio DSG. Abbiamo allo studio il cambio Multitronic e in più abbiamo anche quello per tutte le coppe ZF, cambio del Tuareg, Q7, Audi A6, dove troviamo la coppa in ferro. Praticamente dal foro piccolo riusciamo a montare questo adattatore, spingeremo l'olio finché non vediamo uscire il livello dal tappo di controllo. Quindi si sviderà la modifica e si chiude il cambio in una maniera molto semplice da eseguire. Come al solito noi mandiamo l'uso dei nostri additivi che derivano da uno studio ormai di tre anni fatto proprio sull'additivo prima di poter uscire sui cambi. Ci permette veramente di avere un prodotto di lavaggio ormai riconosciuto da tutti come veramente leader nel settore e anche questo prodotto in base nanotecnologica che ci permette veramente di migliorare le performance. Ormai è diventato un caposaldo del nostro lavoro. L'additivo è diluito chiaramente in una base dextro e chiaramente non colora l'olio che chiaramente se abbiamo un olio chiaro non possiamo montare additivi rossi che ci colorano l'olio. Per l'uso dei lubrificanti vi consigliamo Cronoi dove avrete accesso a una banca dati in rete sul web www.cronoi.com che vi permetterà di individuare il tipo d'olio e la quantità che va nel cambio. Una casa che ci sta levando molte soddisfazioni ci permette di migliorare le performance anche rispetto a prodotti della casa madre. Vi ringrazio alla prossima.